A Gioia Tauro è stato convocato per lunedì 17 ottobre il consiglio comunale che dovrebbe chiudere la querelle nata in conseguenza di una riflessione dell'assessore alla cultura Francesco Toscano esternate quasi un mese fa. Era infatti proprio il 17 settembre quando la nota contestata che ha dato il là ad un periodo farcito da un crescendo di tensioni in grado di mettere a rischio persino la tenuta stessa dell'esecutivo. È difficile a questo punto immaginare la piega che gli eventi prenderanno. Considerate la posta in palio e l'agitazione che non permette di ritornare ai vecchi equilibri facendo finta che non sia successo nulla. Un altro tassello che conferma la gravità del momento riguarda l'incontro organizzato nella prima mattinata di ieri dal sindaco pedà con tutti i dirigenti apicali del comune. Filtrano in discrezione poco rassicuranti rispetto ai motivi che hanno spinto il primo cittadino a convocare d'urgenza l'apparato burocratico al gran completo. Fonti interne riferiscono che il sindaco, messa nel conto la possibilità che il suo mandato possa finire già nel consiglio di lunedì, abbia dato precise disposizioni ai dirigenti su come gestire le emergenze più impellenti. In particolare pare che anche la sua segreteria personale sia stata messa in preallarme. I sette consiglieri che avevano trovato l'unità nel contestare toscano non sembrano però altrettanto granitici nell'affondare il colpo finale contro il sindaco. Due o tre di loro infatti potrebbero tornare su posizioni più responsabili. Il primo cittadino d'altra parte ha detto chiaramente che l'assessore alla cultura non è in discussione per cui ai consiglieri dissidenti rimane poco da fare se non prenderne atto. Alcuni per uscire dall'impasse paventavano la presentazione di una sfiducia individuale contro l'assessore eretico, ipotesi che, quando anche passasse, non impegnerebbe Pedà a trarne le conseguenze. Nel caso in cui invece i consiglieri trovassero il coraggio di presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco stesso, reo di aver respinto l'out-out su Toscano, a quel punto sarà interessante capire il posizionamento delle opposizioni. Schiavone, ad esempio, soffia da tempo sul fuoco, probabilmente allettato dall'idea di raccogliere gli scontenti in vista della prossima tornata elettorale. Più difficile capire le vere intenzioni del Partito Democratico, che avendo fino ad oggi più volte dichiarato di tenere più al bene della città che non a quello di parte, potrebbe fare fallire una manovra nata su deboli presupposti e dai contorni non completamente definiti. In ogni caso, Pedà, convocando gli uffici, ha fatto intendere di considerare la situazione molto seria e delicata.